Ciao a tutti, come conversare anche se non sai cosa dire? Spesso ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo conversare con delle persone e non sappiamo bene cosa dire. Questo video per rispondere a Dale che mi segue su YouTube. Allora, se tu devi interagire con delle persone, devi conversare e non sai che cosa dire, non conosci gli argomenti, c'è un metodo molto semplice che è la tecnica del ricalco verbale. Praticamente in cosa consiste questa tecnica del ricalco verbale? Consiste semplicemente nel fare una domanda e osservare quello che le persone rispondono, poi riprendere le ultime parole che le persone dicono e aggiungere qualche cosa. Ad esempio, non so, potresti dire a una persona, tu sei stato in vacanza l'anno scorso? Lui ti dice, ma l'anno scorso sono stato in vacanza in Sardegna. Ah, in Sardegna, che bello! Io non ci sono mai stato. Ma in quale parte della Sardegna sei stato? Cosa hai visto di bello? Lui ti dice, ho visto di bello, che ne so, il mare. Ah, piace molto anche a me il mare. Pensa che io sono stato, che ne so, in Corsica e quello della Corsica era molto agitato, bla bla bla, c'erano dei pe... e va davanti così. Poi sento cosa mi dice lui, mi reggancio e dico qualcos'altro. In questo modo potrei conversare con una persona per una notte intera senza neanche prestare attenzione a quello che quella persona gli dice. Non è importante conoscere l'argomento. Sì, è importante conoscere qualcosa, ma la cosa veramente importante è sapere, diciamo, agganciarsi a quello che dice la persona per raggiungere qualcos'altro. In modo tale che la persona, tra l'altro, si sentirà anche molto compresa, perché dirà, questo qua ha proprio i miei stessi gusti, i miei stessi interessi. E oltre a sentirsi compresa, quindi si attuerà questo meccanismo del ricalco che, diciamo, ci farà identificare come una sorta di arte rego e ci toglierà dagli impicci di quando magari non si sa parlare, non si sa cosa dire, non si sa... Basta fare una domanda e da quella lì posso andare avanti all'infinito, praticamente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!